Cliccando su Genera domanda, la piattaforma genera il file PDF che dovrà essere salvato e firmato digitalmente. Nel PDF saranno presenti tutte le informazioni inserite sulla piattaforma. Sarà visibile l'elenco degli allegati da caricare insieme alla domanda. Tutti i campi delle diverse sezioni compilate saranno in sola lettura. Tornando nella sezione Allegati potrai continuare a caricare gli allegati. Il primo documento da caricare sarà la domanda. Se ti accorgi che hai sbagliato qualcosa potrai modificare i dati inseriti cliccando su Modifica dati domanda. La piattaforma ti chiederà conferma dell'azione perché dovrà eliminare tutti i documenti caricati. Cliccando su OK ritornerai nella pagina con tutte le sezioni e cliccando su Allegati ritroverai il tasto Genera domanda. Entrando in una delle sezioni che prima aveva i campi bloccati noterai che adesso è possibile modificare i dati. Tornando nella sezione Allegati potrai generare nuovamente la domanda e nuovamente i campi delle diverse sezioni saranno in sola lettura. Adesso puoi caricare la domanda firmata digitalmente e poi man mano tutti gli altri allegati obbligatori selezionandoli dal menu a tendina. Man mano che caricherai gli allegati saranno visibili nella tabella insieme alla domanda. Solo dopo aver caricato l'ultimo allegato obbligatorio visualizzerai il tasto Invia domanda. Dopo aver cliccato sul tasto la piattaforma ti chiederà conferma dell'invio della domanda e nel nostro esempio ti chiedi di caricare un allegato. Caricato l'allegato richiesto, cliccando su Invia domanda e poi su OK visualizzerai il numero di protocollo assegnato alla tua domanda. Tutti gli allegati caricati non potranno più essere eliminati.